Abbiamo due mancine, quindi come vedete hanno la mano destra avanti e quella forte la sinistra di dietro. Sono ragazzi che sono tra le migliori 54 kg in Italia, quindi hanno disputato da poco il guanto d'oro. La ragazza con la maglia blu, Bianca Moglino, ha una quindicina di match quasi tutti vinti, lei un pochino più esperta, una trentina perché sono più anni che combatte, ma comunque il livello equilibrato è un livello alto per il pugilato sia naziale che italiano. Quale categoria? La categoria è 54 kg. Sono ragazze, insomma l'elite è la fascia più alta del pugilato dilettantistico. Cosa possiamo dire? Sono molto brave, sono ragazze molto tecniche che fanno sicuramente una buona impressione in tutti i campi, sia nell'attività ordinaria che in quella nazionale.